eccoci qui rockbox cube fabric edition di fresh and rebel vediamo che è fatto è ricoperto in tessuto come possiamo vedere il marchio fresh and rebel qui abbiamo gli ingressi micro usb per ricarica nonché ingresso house eccolo qui andiamo ora a vedere un attimino più da vicino e nella parte inferiore abbiamo lo switch per accedere o spegnere lo speaker bluetooth